Se avete una situazione del genere, ovvero il cestello della lavastoviglia, il cestello superiore che esce e rischia di cadere sotto al peso dei bicchieri o di quello che abbiamo caricato, il problema potrebbe essere questo piccolo pezzo di plastica che è uscito da qua. Quindi adesso vi faccio vedere come rimettere in pochi secondi a posto il tutto. Dovete prendere questa rotellina, vedete che qui c'è il binario, è fuori uscita, bisogna solo alzare e inserirla, spingere fino in fondo e poi si va ad inserire, vedete che qui ci sono, adesso facciamo, eccoli lì che si vedono quei due piruli piccolini rotondi, Bisogna perciò mettere quel pirulo rotondo nel buchino, quindi adesso ho dall'altra parte di mano il telefonino, eccolo qua. Come vedete, fate una prova, vedete che non esce e a questo punto il nostro carellino, quando arriverà qui, è un fine corsa, la rotellina si fermerà e abbiamo riparato la nostra lavastoviglia. Se questo video vi è risultato utile, come sempre, un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!